Qui ho due scatolette di fiammiferi che sono molto simili ma non totalmente uguali perché questa scatoletta qui è contrassegnata con dei puntini colorati mentre l'altra no. Vorrei che tu mi aiutassi, metti la mano qui proprio come se fosse un muro prendiamo la prima scatoletta con i puntini si vedono? e la metto da questo lato del muro la seconda scatoletta senza puntini la mettiamo da quest'altro lato quindi puntini qui e senza puntini qui proprio come David Copperfield ha attraversato la grande muraglia cinese i puntini attraverseranno, verranno spinti attraverso la tua mano e sull'altra scatoletta controlliamo e i puntini sono passati da una parte all'altra e i puntini sono passati da una parte all'altra scatoletta